Recupererò l'attesa con un brevissimo intervento. Non posso che cominciare con un sentito ringraziamento da parte dei militanti della provincia di Varese, Agilberto Neto, che è stato per tutti noi un maestro e uno sprono a continuare oggi più che mai, anche nel futuro, nella nostra lotta indipendentista. Ovviamente Varese rappresenta, anche in questa nuova Lega, la culla del nostro movimento, laddove è partito tutto, laddove Umberto Bosci e Roberto Maroni hanno dato a noi un grande sogno. Abbiamo una grande responsabilità la prossima primavera di riconquistare l'amministrazione comunale di Varese Città, ben guidata, ben amministrata negli ultimi dieci anni da Tiglio Fontana e quindi da questo palco chiedo la collaborazione da parte di tutti i militanti della provincia di Varese, ma anche di tutta la Lombardia, affinché si possa arrivare a questo importante obiettivo per il nostro movimento. Una provincia, quella di Varese, che ha vissuto negli anni passati divisioni, divergenze, opinioni, rapporti, eccetera, e oggi più che mai però riesce a guardare al futuro in maniera assolutamente compatta e credo che questo possa essere un valore aggiunto per tutti. Arriviamo anche da una provincia dove, notizie anche che hanno avuto rilievo nazionale, in una scuola della città, lunedì, quando tutto il mondo si è fermato, quantomeno tutta Europa si è fermata per il minuto di silenzio, in ricordo delle vittime dei terroristi islamici a Parigi, oggi sei ragazzine in una scuola hanno disertato questo minuto di silenzio, alcune di esse erano anche islamiche, con motivi un po' capestri. Ecco, io dico che se a loro non sta bene, ma non me la prendo con le ragazzine poverine perché obiettivamente se hanno questo atteggiamento qualche problema probabilmente ce l'hanno in famiglia, se a loro non sta bene che tornino da dove sono venute, perché noi non abbiamo bisogno di questi atteggiamenti, questa è casa nostra e qua comandiamo noi. A me piacerebbe, e mi avvio la chiusura, che la prossima segreteria nazionale ruotassi intorno a tre principali argomenti da declinare poi su ogni territorio della Lombardia. Il primo tema è il tema dell'indipendentismo e dell'autonomismo. La mia prima manifestazione, come per tanti di voi, almeno la mia prima manifestazione importante da militante della Lega è stata quella del 15 settembre del 1996 e io sono entrato in Lega perché credevo e credo ad un grande sogno, magari un'utopia per alcuni, ma le utopie e i grandi sogni muovono la militanza politica e muovono tutti quanti noi che ci svegliamo alla mattina e ci mettiamo tanta passione. Il secondo argomento è l'antistatalismo e la lotta alla burocrazia. Noi non dobbiamo dimenticare che arriviamo da un territorio in cui la gente non chiede altro che alzarsi la mattina e poter andare a lavorare nella propria azienda, nella propria fabbrica senza la guardia di finanza tra le palle, l'agenzia delle entrate, la burocrazia e tutte queste robe qua. Andate a Napoli a fare questi controlli, lasciateci lavorare in santa pace visto che il baraccone dello Stato lo manteniamo sempre noi. E da ultimo il tema delle tradizioni, il tema dei valori. Io lunedì sono andato a Bruxelles al Comitato delle Regioni, c'era un socialista inglese che ha fatto un quarto d'ora a parlare del LGBT, che cazzo è, sembra una pasticca, c'era l'LSD una volta, l'LGBT. Ma io dico, ma qui cerchiamo di non sovvertire l'ordine delle cose. La Lega, in maniera chiara e netta, le nostre comunità vogliono che la famiglia sia il centro dei valori delle nostre comunità e che la famiglia deve essere fondata su una mamma e su un papà e non sull'LGBT. Io credo, anzi ne sono sicuro, che la prossima segreteria nazionale guidata da Paolo Grimoldi interpreterà questi valori e questi concetti e quindi a lui, a nome di tutta la provincia di Varese, un grande augurio per questo importantissimo ruolo che dovrà condurre con responsabilità e dedizione per tutti quanti noi. Grazie.